benvenuti a storia di una pandemia la rubrica delle tg7 basilicata attraverso le vostre storie grazie al contributo di professionisti stiamo riscoprendo un'italia diversa e l'italia che non si arrende in un momento così delicato quale quello che stiamo vivendo vista l'emergenza sanitaria da covid 19 abbiamo raggiunto in collegamento video il dottor fabio perricone il ginecologo per dare qualche indicazione alle future mamme su come trascorrere al meglio questo periodo il dottor perricone lo ricordiamo svolge la sua professione presso la clinica roesh di napoli e presso la clinica sanatrix internazionale è volontario al moscati di avellino specialista in ginecologia ed ostetricia con formazione in medicina della riproduzione tra i tanti master uno in andrologia e medicina della sessualità presso l'università di padova diverse le esperienze maturate anche all'estero a sydney in particolare in diagnosi cura e prevenzione di patologie prenatali noi vi lasciamo al dottor perricone che sicuramente avrà tante cose da dirci dottore questo è un momento difficile che stiamo attraversando dettato proprio da questa emergenza sanitaria per il covid 19 e lo è soprattutto per coloro che stanno affrontando un momento che sicuramente prospettavano felice o quantomeno diverso della loro vita mi riferisco alle future mamme quindi tutte le donne in gravidanza che cosa si sente di dire ecco più che altro un consiglio su come affrontare a meglio questa fase allora sicuramente le future mamme hanno un dovrebbero avere una maggiore attenzione per una serie di cose sicuramente le norme principali che si adottano e sarebbe quelle della del giusto e la modalità giusta di comportamento dovrebbero avere tutti i cittadini ovviamente lo devono avere anche loro in più diciamo che avendo un essendo in gravidanza quindi gravidanza vuol dire stato grave letteralmente se significa che sono un momento diverso della propria vita in cui ci sono dei parametri totalmente differenti e sostanzialmente c'è bisogno di una maggiore attenzione quindi quello che mi sento di dire alle madri che devono vivere quanto più possibile serenamente questo periodo so che è complicato perché sono tanti fattori non che possono avere una sicuramente un incisione a non farle stare serene però le norme comportamentali direi che dovrebbe essere l'equivalente di tutte magari una maggiore attenzione su qualcosa io direi alle madri sicuramente di non restare chiuse nelle case ovviamente se magari ci sono degli ambienti poco diciamo pochi predisposti a stare per tanto tempo immagino una casa con magari cinque persone immagino una casa magari di 40 metri quadri che quasi un monolocale è difficile molto difficile quindi a loro dico di darsi un diario che vuol dire un diario darsi il diario della settimana nella quale mettono impegni del ogni giorno hanno un determinato impegno comprensivo perché no una magari un'andata al supermercato una farmacia magari un posto che magari è raggiungibile a piedi magari far fare una passeggiata nel caso al cane nel caso in cui sia chiaramente con tutte le precauzioni e l'attenzione che ci sono quindi suggerisco sempre la mascherina perché è vero che nasce come un presidio per quanto riguarda la non diffusione del virus ma chiaramente se tutti li utilizzano in maniera appropriata si diffonde in maniera molto più più frenata ci sia un freno a questa diffusione i guanti sì e no nel senso che i guanti se sono un presidio che ben utilizzato va bene ma se si devono mettere per poi pensare di stare sereni con perché siano i guanti si commettono molti più errori senza quanti che con con i guanti è un indice che ti potrebbe dare la sensazione di avere una serenità però a volte rischi avendo i guanti di avere dei gesti magari anche toccare il telefonino magari se ti tocchi il naso i capelli e poi magari tocchi altre cose che comunque potrebbero essere contaminate quindi attenzione e direi una bella lavata di mane fatta bene e delle attenzioni per quanto riguarda ciò che si tocca è meglio rispetto dell'utilizzo dei guanti penso che questo principalmente sia il punto per quanto riguarda ecco questa la gestione chiaramente le madri anche avere magari un'attenzione nel perché no durante il periodo nello stare a casa magari avere anche un momento in cui si fa la un po di ginnastica magari la ginnastica pre parto magari magari tramite qualche corso su internet è una cosa molto interessante sarebbe magari ritorno ai corridini no e ritorno anche eventualmente al cucito qualcosa che comunque delle delle antiche abitudini che potrebbero ritornare avendo adesso il tempo no per farlo un corso di preparazione pre parto che cosa insomma è consigliabile in questo momento perché o l'avrà interrotto o comunque volevo sapere da lei se ci fosse un'alternativa anche online o qualcosa tipo videochiamate o quant'altro insomma quali sono le modalità prevalenti perfetto per quanto riguarda il corso pre parto io so e personalmente lo faccio e facciamo il corso di parto lo facciamo tramite video videochiamata tramite videoconference quindi tutte le gravide che fanno che fanno il corso di parto si connettono ci stanno dei delle applicazioni tipo zoom e altri tipi che che permettono di poter partecipare non soltanto ascoltando ma proprio partecipando direttamente e io faccio il corso di parto per quanto riguarda la donazione delle cellule strafinali del cordone umbilicale essendo il presidente della mascotte che appunto l'associazione medici associate per il sangue di cordone umbilicale donato e quindi sarebbe il color del sangue di cordone umbilicale come cellule staminali quindi a pazienti soprattutto spesso sono bambini leucemici che hanno bisogno di cure e hanno bisogno appunto delle cellule staminali come come salvavita quindi questo è un percorso e quindi tramite il corso pre parto ci fa una giusta informazione sul territorio per quanto riguarda questa cosa che cosa suggerisco che se la struttura in cui loro hanno la possibilità di diciamo confrontarsi quindi stanno facendo un corso pre parto ha avuto la possibilità di farlo online bene lo sono fare non ci sono problemi nemmeno con gli esercizi che fanno le le gravide perché tutto ciò che noi abbiamo questa fortuna oltre a farlo da a vederci di persona abbiamo la possibilità di trasmettere in maniera molto pratica come lo stiamo facendo adesso noi un messaggio e una giusta informazione pur trovandoci a distanza certo assolutamente concordo su questo per quanto riguarda il parto assistito ecco noi abbiamo raccolto gli appelli di diverse anche giovani ragazze future mamme che presentavano un po questa difficoltà no cioè immaginavano che comunque il parto fosse fosse presente anche il compagno magari quindi per un sostegno in questi casi sicuramente non sarà possibile almeno loro manifestavano questa titubanza e che cosa si sente di dire c'è la presenza o meno allora diciamo diciamo che questo momento molto particolare è un'emergenza per tutti abbiamo siamo tutti tutti siamo abbiamo uno stile di vita che è totalmente cambiato sicuro sarebbe una cosa molto interessante bella calda il avere un il partner il marito vicino durante il parto sicuramente è una cosa bella però se ci sono delle condizioni che anche normalmente non prevedono questa magari un'urgenza una situazione di precipita un parto precipitoso comunque del tutta una serie di condizioni con le quali non si può questa fa parte di questa emergenza è un'emergenza in tutto e per tutto quindi dico a loro portate pazienza cioè se normalmente è una cosa potenzialmente possibile quando ci sono le emergenze hanno la priorità le emergenze certo io andrei all'ultima domanda dottore su insomma volevo sapere da lei in questi giorni immagino che le stia continuando a lavorare con tutte le accortezze del caso dettate da questa situazione emergenziale noi ecco spesso da giornalisti siamo costretti a dare numeri e soprattutto cattive notizie io vorrei sapere da lei invece se nel corso di questi giorni difficili c'è stata qualche nascita se in qualche maniera è così approvarsi alla vita allora la vita vince sempre quindi si continua a nascere anzi una nota positiva che questo è un momento nel quale hanno possibilità le coppie a stare più serenamente tra virgolette per lo meno per una questione temporanea assieme e devo dirti c'è anche una buona notizia che una delle pazienti che seguivo per la medicina riproduzione quindi che faceva un percorso di medicina riproduzione tramite appunto degli accorgimenti se una terapia è comunque degli accorgimenti terapeutici e in gravidanza anche se comunque sta facendo un percorso è riuscita a rimanere gravida e ben venga perché le nascite le procreazioni e la vita c'è sempre sicuramente una nota tra virgolette dolente e per quanto riguarda la medicina riproduzione in questo momento è ferma quindi tanti cicli di terapia non sono possibili però ripeto siamo una situazione di emergenza quindi la vita ritornerà ad essere come come prima immagino di noi ci saranno dei cambiamenti sicuramente ognuno di noi però sono convinto che ci saranno miglioramenti perché a ogni cambiamento è previsto un qualche è un'evoluzione noi siamo l'evoluzione noi facciamo parte stiamo facendo la storia 2020 il precedente 13 marzo è stata dichiarata la pandemia quindi è una data che rimarrà nei libri di storia noi in questo momento siamo la storia quindi da persone che fanno parte della storia dobbiamo mettere tutti il nostro impegno si chiedeva a chi ha fatto la storia quindi i nostri nonni di andare in guerra per gran parte di noi della nostra popolazione si dice state state a casa quindi rimanete nelle vostre case rimanete sui vostri divani fate la vostra parte facendo il meno possibile per entrare in contatto con altre persone noi oggi tramite l'associazione sia mascot vola e un'altra collega che ha partecipato all'iniziativa abbiamo donato delle mascherine all'ospedale cotugno ci sarà sono più di 300 mascherine avremmo abbiamo avuto comunque la possibilità chi ha la possibilità di fare qualcosa chiaramente all'asse medica difficile che si può fermare però a tutti è chiesto un sacrificio il sacrificio è anche spesso con i triboli di rimanere a casa so che è difficile so che non è non è semplice adottare uno stile di vita differente da quello che avevamo dobbiamo tutti darci un ecco più che una nuova modalità di vita dobbiamo evolvere insieme all'evoluzione questa purtroppo fa parte dell'evoluzione potenzialmente sono cose molto difficili da sopportare in questo momento capisco bene che soprattutto per i ragazzi hanno bisogno di uscire divertirsi però è un momento in cui ci sono dei sacrifici che ognuno di noi deve fare questo fa parte del sacrifici che è un sacrificio che dobbiamo compiere chi lo deve fare in maniera attiva e c'è chi lo deve fare anche in maniera seppur strana ma sedentaria perché quello si deve fare in questo momento quindi il suggerimento e lo ripetiamo tutti quanti perché è una cosa fondamentale stare a casa lo so che un momento complicato so che comunque ci saranno le feste di natà di pasqua che ci sono le festività che sono come ogni festività importante bastarla insieme però è importante che le festività vengono appunto mantenuti dei criteri che rispettino il canoni di quello che si è stato fatto fino adesso quindi le famiglie potranno fare dei incontri skype potranno fare incontri come stiamo facendo in questo momento di lei quindi avremmo c'è la possibilità di entrare in connessione tra le altre cose questo lo voglio sottolineare e metterlo in evidenza tranne per i coniugi marito e moglie io comunque suggerisco di mantenere una distanza di sicurezza perché il contagio è esponenziale cioè come una persona viene contagiata può contagiare tante altre persone e un moltiplicatore quindi facciamo attenzione avremo buone notizie ne sono sicura per pasqua e quindi niente speriamo bene che questo momento passi velocemente io la ringrazio dottore mi unisco naturalmente all'appello che ha rivolto tutti i nostri ascoltatori quello di restare a casa il suo è stato un prezioso contributo e ovviamente la ringrazio a nome di tutta la redazione delle tg7 basilicata e auguro ai nostri ascoltatori una buona giornata e sicuramente ci rivediamo e risentiamo domani grazie mille di cambio grazie mille